Un cordiale saluto da Andrea Biagiuni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino e code in uscita a Firenze Sud, da segnalare anche rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili ancora a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in entrambe le direzioni. A Firenze domenica 28 novembre torna la Firenze Marathon per il dettaglio delle modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale seguite i nostri canali social. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!